Vescovi, collegialità e poveri. Sono questi tre pilastri sui quali si basano le due lettere motu proprio presentate in Sala Stampa Vaticana di Papa Francesco, dal titolo Mitis Judex Dominus Iesus e Mitis et Misery Corsa Iesus. Entrambe riguardano la riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità matrimoniale nel Codice di Diritto Canonico e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Sulla scia del Sinodo Straordinario sulla Famiglia dell'Ottobre scorso, il Pontefice ha scelto di intervenire in modo incisivo creando prima una commissione di studio e poi emanando le due lettere. Il matrimonio, si legge nel documento, è cardine della famiglia cristiana e lo scopo è quello di non favorire la nullità dei matrimoni ma la celerità dei processi. Centrale in questo procedimento è la figura del Vescovo, una sorta di giudice unico che opera nella sua diocesi dove deve costituire un tribunale. Scompare però l'obbligo di una doppia sentenza conforme, ne basta una in favore della nullità. Nullità possibile anche per mancanza di fede che può generare simulazione del consenso matrimoniale. Resta in vigore comunque la possibilità dell'appello alla rota romana. Monsignor Appio Vito Pinto, decano della rota romana. Il Papa investe nella fiducia verso i Vescovi. Nessun Papa ha celebrato due sinodi a distanza di un anno. La riforma si incentra sul Vescovo diocesano e chiede un'apertura onesta non solo come anima ma anche come mente e cuore alla massa dei poveri. Quando il Papa ripete che la Chiesa deve aprirsi ai poveri che sono nelle periferie, ha inteso e intende parlare anche, come voi sapete bene, della massa dei divorziati che sono una categoria di poveri. Alle conferanze episcopali viene richiesto di favorire la gratuità delle procedure perché la Chiesa, scrive il Papa, manifesti l'amore gratuito di Cristo dal quale siamo stati salvati. A sottolineare l'aspetto della collegialità nella Chiesa è Monsignor Dimitrios Salacias, esarcha apostolico di Atene per i cattolici greci di rito bizantino. La Chiesa cattolica deve respirare ormai con due polmoni. Non è una retoria questa. Ha un profondo senso teologico. La Chiesa cattolica nella diversità, unica fede nella diversità di culture e di discipline canoniche. Quindi, sin dall'inizio, il legislatore, promulgato questi due motu proprio, dice costante è stata la volontà dei conto pontifici. Quindi, questi due polmoni ormai devono respirare per esprimere la cattolicità della Chiesa. Le norme entreranno in vigore l'8 dicembre, inizio del Giubileo straordinario della Misericordia. Una particolare cura è raccomandata da Papa Francesco per i coniugi separati o divorziati che devono sentire la vicinanza della Chiesa e della comunità. Monsignor Aleandro Bunge. Alcuni hanno una ferita speciale, il matrimonio ferito dall'inizio. E questa è una nullità matrimoniale. Allora, se ci sono questi ospedali di campagna, che sono tutte le parrocchie, tutte le diocesi che curano dei feriti, c'è una terapia intensiva, il tribunale ecclesiastico. Si potrebbe dire che questo processo ha messo nel centro i fedeli e tra quelli i più poveri e i tribunali guidati da quello che è il primo giudice, il Vescovo, al servizio di questi fedeli.